Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano codi a tratti per il traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A12 per lavori è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo, un'entrata in direzione Genova e un'uscita provenendo da Genova. Si informa che fino al 9 marzo resterà chiusa la funicolare di Certaldo per lavori di collaudo e manutenzione. Infine per i treni, dal lunedì 26 febbraio saranno riattivati i treni tra Empoli e Firenze Castello, con la stessa programmazione precedente alla sospensione. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!